allora raccontiamo una roba perché il signor Cristiano è a chi? e io sono qui perché intanto ho preso una multa a Roma e te lo volevo dire anche in diretta purtroppo ho sbagliato io quindi non c'è stata alcuna faccio mia colpa non si guida col cellulare in mano mai e quindi ti passerò poi la fattura e ti ringrazio in anticipo spero che ti paghiano la patente no questo no perché poi non posso andare in giro anche per per la redazione no siamo qui ragazzi anzi sono qui nella casa colpo coppo perché si va all'Ipsia partiamo questa notte dopo la next gen a questo punto e poi raggiungiamo la città tedesca domani ci facciamo il pre con serenità ci facciamo le conferenze stampa un po' di video contenuti dallo stadio torna nei vlog torna nei vlog stiamo già girando il vlog della della partenza e poi chiaramente vivremo in prima persona la la partita la prima trasferta di Champions di quest'anno con grandissime aspettative perché effettivamente parlando anche in macchina siamo gasati c'è poco da fare siamo veramente gasati esatto andremo in macchina saranno quanti chilometri sono tipo 700 800 sono 800 chilometri eh 10 ore di macchina facciamo tutti siete anche gasati per le 10 ore di guida bravi sì però non hai capito una cosa non è quella macchina che avevamo prima questa è un po' più spaziosa ma restano 10 ore di macchina fatti i vostri anche con un Porsche comunissimo sarebbero 10 ore ragazzi ma la compagnia è bella la compagnia è bella borsa frigo in viaggio bibite snack podcast e rimanere tanto abbiamo tutti gli adas non c'è pericolo che ti che ti possa però insomma vi documenteremo sia col bianco nero insomma se un cristiano in prima persona tutto ciò che accadrà insomma all'Ipsia per cui il bianco nero c'è all'Ipsia conferenza stampa già domani nel pomeriggio quindi mi raccomando vi faremo vedere anche le immagini del workaround alle 17.45 sui nostri social sul nostro sito qui su youtube e poi insomma faremo ci sarà conferenza stampa e poi andremo in diretta per commentarla insieme grande chiamata colpo gombo che ha trovato insomma la la casa a pochi metri a un chilometro a un chilometro dallo stadio dallo stadio quindi tra il centro e lo stadio quindi facciamo casa casa stadio in un amen e poi saremo chiaramente sempre in diretta anche sui nostri social o qualcosina su instagram faremo e ci divertiremo insieme a voi sperando insomma che vada tutto bene soprattutto per le dieci ore di viaggio perché poi quella la preoccupazione è più grande comunque ragazzi io sono inviato di me stesso condividiamo il viaggio col bianco nero e racconteremo anche col bianco nero in questo caso io parto in veste mia e condividiamo il viaggio ovviamente ci saranno le dirette col bianco nero sia chiaro però era già deciso da te ma no anzi noi ci dissociamo da te ci siamo incastrati come un puzzle noi facciamo il nostro percorso con i nostri inviati allora ovviamente abbiamo già sbagliato stavolta esatto ma poi quella roba là ragazzi no quando si guida assolutamente no uno beve l'altro guida ecco già subito l'altro in attività ce ne sono lunghe allora parliamo di questa partita intanto vi dico l'ipsia in che stato è una sconfitta quest'anno una con l'Atletico di Madrid al Vanda Metropolitano che arriva nei minuti di Simeone possiamo chiamarli così visto anche il pareggio ottenuto con Real ieri una squadra che è molto forte pressing totale in ogni parte del campo lascia ogni tanto qualche buco che arriva non so spesso perché i difensori sono attratti dalla gente che va a zonzo secondo me se azzecchiamo la partita potrebbe essere la vittima perfetta per il modo di giocare però ci aspetta una partita tecnica totale cioè non dobbiamo sbagliare nulla e poi ricordiamo comunque il fattore ambientale quando sei là cambia tutto però è una squadra che in campionato è seconda o terza non mi ricordo a qualche pareggio nessuna sconfitta in campionato il resto tutte vittorie la Juve va attestata secondo me la Juve va attestata proprio su quella roba che dicevi tu cioè sull'andare sotto sulla reazione sul fatto comunque di raccogliere le idee e tornare a giocare è una partita che non deve mettersi male per certi versi per quantomeno giocartela ma credo che con le certezze acquisite già nel primo mese la Juve vada lì desiderosa anche di avere il pallino del gioco rispettando l'avversario l'ambiente è una squadra molto dinamica e si muove tantissimo ma anche consapevole che gli spazi ci saranno per essere sfruttati quindi da questo punto di vista credo che sarà la classica Juve senza alcun timore reverenziale e sarà comunque a prescindere un bel test di maturità per la squadra per i giovani soprattutto e per Tiago stesso che comunque è la prima trasferta di Champions da allenatore non è un fatto banale anzi ultima partita dell'Ipi si è 4-0 contro l'Augusta doppietta di Sespo assegnata anche Openda e poi un altro non ricordo però hanno un modo di giocare molto atipico là davanti cioè si muovono tanto non danno punti di riferimento anche Sesco che è una potenziale prima punta in realtà svaria sotto il fronte d'attacco li temi tu ebbè sì già l'anno scorso hanno fatto una grande Champions quindi non è che andiamo lì con l'effetto sorpresa se vuoi tornare con i tre punti devi fare una grandissima performance quindi è la classica trasferta in questa fase dove io personalmente accetterei anche il punticino me lo porterei a casa ben volentieri è una partita molto difficile molto molto complicata abbiamo lì la prima fascia oltretutto tra le varie stratte con il City quindi l'avversario più difficile sulla carta siamo fuori casa sono curioso di vedere le scelte soprattutto a centrocampo perché molti ci dicono ma è tipo Angri scrive la partita ideale per Douglas qualitativamente sì però io credo che per vedere Douglas dall'inizio serve il migliore che Frenturam o Locatelli cioè non siamo ancora in quella fase in cui metto Douglas e Fagioli Douglas e McKennie secondo me a fianco a Douglas vuole un pedalatore perché Douglas sta perfezionando la fase che non possesso eh mai nella vita un pareggio amico mio ne riparliamo mercoledì l'Ipsen è una squadra da rispettare molto forte molto tosta quindi sono curioso di vedere quali saranno le scelte là davanti quali siamo non è che magari tu puoi pensare di buttare Consensau subito dall'inizio al posto di Nico una staffetta no mi sembra più un Consensau da gettare proprio a fronte di quel discorso che vai a giocare anche contro l'avversario che si stancano nella ripresa quindi eh sono più curioso lì in mezzo al campo alla difesa mi aspetto che torni gatti con Pierino Calulo a destra ovviamente cambia da sinistra e vediamo cosa succede sì io sono d'accordo l'unico dubbio che avevo ma personale non c'è derivante da alcuna indicazione è su Copp cioè Copp fa un'altra partita gioca ancora non si è ripostato mai però davanti effettivamente l'equilibrio è quello lì e sono d'accordo con Rome mi aspetto gatti mi aspetto di che Ricorio in porta naturalmente mi aspetto con lui a destra in mezzo io mi aspetto che torni un po' alle origini cioè la prima coppia che aveva testato lì in mezzo che era Turam Locatelli perché secondo me per qualità per temperamento per proprio diciamo incastro generale per me quella è la la coppia che aveva in mente sin dall'inizio con il supporto proprio di Copminers quindi mi aspetto un 4-2-3-1 abbastanza classico per quanto i numeri non continuo però quella Juve lì quella che aveva in testa sin dall'inizio proprio per tenere quando ci sarà da tenere inevitabilmente a poi sfruttare bene gli spazi che ci saranno da prendere Link il centrocampo rimane uguale no nel senso che se torna Locke non è più uguale rispetto alla partita col Genova così Mech può giocare con Locke no dai Mech di nuovo dopo che ha fatto anche questa partita guarda secondo me io non farei tanti calcol con Tiago se vede Mech che sta bene che li garanti poi c'è un punto anche tolto direi Locke sicuro più Uro e ci sono c'è bagar piena perché Locke sicuro perché non ha giocato mi aspetto che l'abbia risparmiato per questo secondo me se la giocano se la giocano McKennie e Turan dall'inizio e poi mi aspetto Douglas col Cagliari titolare poi è la mia sensazione che in casa anche è molto meglio facile poi tra l'altro lui non va di nuovo in nazionale fortunatamente per noi perché per il nostro giro ci va Bremer purtroppo quel genio dell'allenatore del Brasile ha avuto bisogno di mesi per capire che avrebbe dovuto convocare uno dei centrali più forti al mondo ci è arrivato purtroppo Bremer Danilo e Nico sono i sudamericani che partono a sto giro sono tanti anche perché ci sono chance che di Gregorio ottenga la convocazione sono tanti sono tanti e poi c'è l'America e lui e poi c'è questa sosta che piuttosto io preferirei una trambata sui maroni che è una roba se mi chiedete una trambata sui maroni o la sosta ci penso bene infatti proprio questo me ne scappo no no comunque ragazzi c'è sempre la sosta tre due con tutto il bene ma